Buon pomeriggio a Gloria Nobili, una persona importante, sono emozionata nel presentarti e devo dire che è una conoscenza molto recente. In un mio viaggio sulla Terra, recentemente da Marte, ho conosciuto Gloria Nobili all'osservatorio copernico di Saludeccio. Ero molto incuriosita dal titolo di una conferenza che avrebbe fatto, che si intitolava appunto L'universo, tre puntini, un pensiero e poi c'era anche un punto di domanda. Io adoro i punti di domanda e infatti mi sono sentita subito in sintonia perché in quella serata a un certo punto lei ha detto non aspettatevi delle risposte, ma io vi darò delle domande, vi darò degli spunti su cui riflettere, che è esattamente quello che ci serve, quello che dobbiamo fare. E quindi è stato un incontro molto particolare sotto le stelle, una serata bellissima con una luna crescente, è stato veramente molto suggestivo. Ho capito subito che Gloria era una persona speciale perché ha una doppia identità, forse tripla, forse multipla. Cioè da un lato è docente, è studiosa di fisica, dall'altro è dotata di una sensibilità profonda e sottile insieme, capace di unire appunto gli universi. L'universo della scienza da un lato e quello del pensiero, dell'immaginazione, dell'emozione dall'altro. Quindi vorrei proprio partire da questa duplice, molteplice identità di studiosa e quasi di sensitiva, mi verrebbe da dire, non nel senso comune della parola, ma nel senso di una forte capacità di comprensione e di empatia. Il sentire è una cosa importante. Come hai scelto, per esempio, la tua professione di fisica e come la fisica può aiutare a comprendere non solo l'universo, ma anche il funzionamento del nostro pensiero e viceversa. Chiaro che per rispondere a queste domande ci servirebbero due o tre milioni di anni luce probabilmente. Noi abbiamo dieci, dodici minuti, però buttare lì qualche pillola di saggezza del tuo pensiero ci farebbe, chiaramente ci farebbe molto piacere e poi parliamo anche del tuo libro. Gloria Nobili. Dunque, non sono nata con l'amore per la fisica, lo dichiaro. Sono arrivata fisica forse più per esclusione, perché volevo scegliere una facoltà scientifica, che non per proprio passione. Poi nello studiare mi ci sono appassionata e dopo è diventata quasi una componente di me stessa. Tant'è vero che in famiglia mi prendono un po' in giro perché dico sempre ma tanto è una legge della fisica. E quindi ormai, come dirlo, da un per scontato. E questo è importante perché in effetti tu parli sempre da una posizione di grande autorevolezza perché se è una legge della fisica nessuno può più dire niente. Tu hai sempre ragione, scusa. Forse è un modo anche questo. E quindi è nata così. Invece il rapporto con la parte, come dire, più profonda, insomma, di tutte le persone, poi non solo mia, è quello che c'è sempre stata. Fin da bambina mi facevo tante domande, mi ponevo tanti quesiti e poi la vita mi ha dato delle occasioni di riflessione, di approfondimento, anche di crescita, magari anche attraverso episodi non proprio simpatici, tuttavia se li si prende come si suol dire dal lato giusto diventano degli insegnamenti, anche quelli. Altrimenti se rimaniamo nel dolore come dire, non ci insegnano niente. Certo, è una grande lezione questa, devo dire. Questa cosa di non stare mai fermi, no? Di di non bisogna fermarsi nel dolore, bisogna continuare a muoversi. Ce lo insegna proprio a muoversi, no? Che non c'è mai niente che sta fermo. No. E quindi, come dire, era anche poco logico rimanere nel dolore, perché tanto non porto da nessuna parte. E quindi questa questi percorsi che ho fatto nella mia vita mi hanno poi portato anche allo scrivere per parlare dei emozioni, di sentire, di altri livelli che di solito, però non è detto che sia sempre che rimarrà così, di solito nella fisica vengono insomma, diciamo, tralasciati. Eh. La mia osservazione però è, se la fisica la fanno i fisici, che sono esseri umani, come puoi tralasciare tutta la parte emotiva, energetica, spirituale, se vogliamo. Quindi, sì, è un po' un'illusione quella di fare della fisica una scienza assettica. Avrà le sue leggi, per carità, dove entra la matematica, che è precisa. Dico mica di no, però non è che si esaurisce lì. Ecco, altrimenti sarebbe qualcosa più da macchina, da computer, che non da persona. Infatti, in una delle interviste che abbiamo fatto con Mario Compiani, che è un fisico, anche lui, lui sosteneva la necessità di una didattica che prenda, che dentro di sé, una didattica della fisica, che prenda dentro di sé anche gli studi umanistici. Perché, in realtà, la fisica è umanistica. Altrimenti, come dici tu, saremmo, sarebbero macchine. E mi sembra una cosa veramente importantissima questa, questa da dire. Perché, invece, spesso si ragiona per combattimenti stagni, per cui gli studi umanistici da una parte e gli studi scientifici dall'altra. E questo è un grosso problema, perché in quella conferenza meravigliosa che hai fatto, ci hai mostrato l'infinitamente piccolo, l'infinitamente grande, il livello cosmico, il livello del pensiero, come tutti collegati, insomma, come legati a un discorso invece di umanità e non di realtà asettica che ci sta intorno. Quindi questo mi sembra fondamentale, mi sembra che il tuo lavoro sia veramente importantissimo, sia come docente che come ricercatrice, che come studiosa. E, fra l'altro, la fisica è cambiata in questi anni. Ecco, per esempio, la fisica quantistica è diversa dalla fisica meccanica, quindi penso che, come hai detto prima, l'hai buttata lì così e hai detto per ora. Ecco, può darsi che in futuro so che, insomma, per ora è ancora fantascienza, però il discorso del viaggio nel tempo, per esempio, dopo Einstein, un pochino sembra più vicino. Ecco, il discorso dello spazio-tempo comunque è intrigante e ci fa ben sperare in qualcosa che sia un po' meno tradizionale, no? Anche negli spostamenti. Un po' la tua visione del pensiero. Perché il pensiero, come ho detto anche nella presentazione, noi pensiamo che sia legato al cervello e che esista perché c'è un supporto fisico, cioè fisico-materiale, insomma, dentro la nostra testa che ci permetta di pensare. In realtà, come ho detto, sono stati fatti anche degli esperimenti, delle prove sul fatto che il pensiero possa essere anche slegato da un corpo fisico e che il corpo, il cervello, corpo fisico col cervello sia un mezzo di espressione del pensiero, non la sorgente del pensiero, che sarebbe connessa più al concetto di vuoto in senso quantistico, perché il vuoto inteso in senso quantistico non è un vero vuoto, come lo intendeva Newton, ma è un vuoto pieno di energia. C'è anche un bellissimo esperimento, fatto, cioè prima venne proposto a fine degli anni quaranta, poi fatto praticamente nel duemila due, in cui hanno misurato la densità di energia del vuoto. Quindi non è più un bella idea, così sentimentalmente mi mi appaga il fatto che sto vuoto non sia vuoto, lì è stata fatta proprio una misura e quindi come dire a questo punto non si può più negare. Poi la cosa non è che viene propagandata ai quattro cantoni. In più sempre su questo argomento pensiero uomo fisica, c'è un adesso mi permetto, faccio pubblicità a un collega, un bellissimo libro di Federico Faggin che nell'ambiente fisico è molto noto, anche nell'ambiente imprenditoriale, perché lui è stato l'inventore dei microchip e quindi è stato in pratica il fondatore dell'era degli automi, del pc, dei portatili, insomma prima di lui non c'era. Quindi è autorevole come persona, come scienziato, è un fisico e in più negli ultimi anni ha approfondito anche lui un discorso di rapporto tra l'uomo e la fisica quantistica dove dice che smetteremo di pensare che la fisica quantistica sia qualcosa di complesso quando ci renderemo conto che invece è la fisica della coscienza. Bellissima questa, ci hai buttato lì una cosa grande, questa fisica della coscienza, bellissima. Il libro si chiama Irriducibile comunque che è riferito appunto alla coscienza. meraviglioso e entrerà nella mia biblioteca marziana, questo, questo si sembra, questo sicuramente. No, la cosa che mi, 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 mi riappacifica con la fisica perché io ho iniziato a studiare medicina tanti anni fa e poi mi fermai proprio sull'esame di fisica che non ho mai provato nemmeno a dare, non sono neanche andata a dare l'esame. Tanto ero stata traumatizzata dal professore di fisica perché avevo fatto tutti gli altri esami nel primo anno e mi mancava quello. Ed era terribile per me perché questo professore non aveva nessun tipo di empatia, spiegava come una macchina e io non avevo capito niente. Proprio guardavo le formule come se fossero una lì. Penso che avrei capito meglio il linguaggio marziano di quelle formule, buttateli. Poi nel tempo amici che ho conosciuto, docenti, colleghi, e tu Gloria che mi hai aperto un mondo. Un po' alla volta ho fatto anche letture di, anche di romanzi in cui poi qua e là spuntavano la teoria dell'indeterminazione, le leggi della termodinamica, l'entropia e sono tornata da autodidatta a studiare certe cose che allora mi avevano spaventato e ho capito, e qua arriviamo al discorso della coscienza che dicevi, ho capito che in realtà tutto questo che fa tanta paura, la fisica quantistica eccetera, io la sento molto più vicina rispetto a quanto potevo sentire la fisica tradizionale che cercavano di insegnarmi allora. Ecco io credo di poter trovare un sentiero di accesso a questo mondo grazie proprio a personaggi come voi che hanno aperto delle strade diverse, non c'è nulla da dire e voi avete una, credo una marcia in più per spiegarci queste cose che non sono così aride come mi avevano fatto credere, quindi grazie anche per questo nome, per questo libro che mi hai segnalato. E adesso invece voglio parlare di questo, che questo meraviglioso libro che ho scoperto quella sera, perché te l'ho chiesto, perché nemmeno ne avevi parlato e me lo sono veramente divorato, un po' perché conoscere l'autrice e trovarsi subito in mano questo libro viene voglia di leggerlo subito e proprio di provare a commentarlo a caldo e un po' perché non riuscivo a smettere di leggerlo perché è veramente interessante anche il tema. Sono tre racconti, sono tre donne, sono protagoniste femminili, ma molto inconsuete devo dire, non sono le tipiche donne che troviamo nei racconti di oggi, pensate che una di queste si parla anche di Sibilla, quindi andiamo proprio dal passato al futuro estremo, sono storie che parlano d'amore, che parlano di dolore, che parlano di sogni e di realtà e quindi che parlano di noi, parlano di noi senza quell'eccesso di retorica che io trovo spesso nei nei libri che parlano di donne o sono eccessi di retorica oppure c'è un eccesso di dolore come giusto che ci sia nel caso della violenza. Noi leggiamo molte cose di violenza contro le donne, leggiamo cose sulla mancata parità di genere, ecco non voglio toccare quell'argomento, però in generale spesso i libri trasudano un pochettino retorica. Ecco qui non ce n'è, qui c'è la meraviglia della scoperta continua. Credo che Gloria abbia una tendenza a non darsi mai per soddisfatta, come se avesse finito di studiare. Ecco non sa mettersi in cattedra, cioè una docente come lei autorevolissima che si mette veramente al livello di noi poveri umani o marziani e che ci incanta, capace di incantarci. Io veramente mi succede raramente di iniziare un libro e di finirlo quasi, non dico nella stessa sessione, ma ci ho messo quanto, una notte e un giorno, poi ti ho scritto, che l'avevo letto eccetera. Proprio perché finita una storia ne volevo leggere un'altra e poi sono tutte collegate in un certo modo. Il titolo è I fiori di Kaila e hai voglia di parlarne un po' di questo libro? Questo libro appunto un po' fuori dall'ordinario perché proviene, l'ispirazione è stata un po' fuori dall'ordinario, nel senso che in quei momenti del mattino tra che ci si sveglia ma non si ancora svegli bene bene, insomma si è un po' lì nella terra di nessuno, diciamo, mi sono arrivati questi flash dei nuclei fondanti dei tre racconti e io sul momento ho detto, poi l'ho raccontato a qualche mio amico, ma no che è una bella idea, dai scrivi tutto il racconto così e così ci ho messo un po' del mio, ci ho messo un po' di fantasia e sono venuti fuori questi racconti, quando li ho fatti vedere all'editore, l'editore è rimasto entusiasta e mi ha detto, guarda non toccarli, lasciali come sono, va bene così, non preoccupate, perché io dico, ma se c'è qualcosa, no no va benissimo e ovviamente il diciamo le tre protagoniste hanno delle caratteristiche un po' particolari, ad esempio nell'ultima, visto che l'hai citato, che si intitola il segreto della Sibilla, ecco capite che il mondo della Sibilla non è di certo il mondo perlomeno della scienza come lo intendiamo noi in modo classico, ecco, è un mondo di magia, è un mondo particolare, ma qui ho voluto sottolineare anche qui l'umanità della Sibilla, cioè il suo percorso che l'ha portata a diventare un supporto, un sostegno nel dare consigli nel, sia di vita, ma anche, non so, qualche erba un po' che aiutasse in certe situazioni, perché è la grande capacità poi che abbiamo noi donne, non è solo della Sibilla, noi siamo tutte, quando diamo retta al nostro femminile, buone consigliere in modo costruttivo, perché siamo noi che portiamo avanti la vita. È un po' il lato bello dell'essere strega, no? C'è anche un po' di stregoneria in tutto questo, le donne quanto hanno sofferto, no? Per essere state bollate come streghe quando in realtà spesso volevano solo studiare, volevano solo conoscere. E aiutare. E aiutare, perché poi c'è tutto il discorso della cura, giustamente, l'aiuto, il consiglio, e fa parte proprio del mondo femminile, e tu lo cogli benissimo in questo, in questo tuo libro. E poi ti interrompo un attimo, poi ti lascio ricominciare. Tu parli nel tuo libro proprio, ci sono dei capitoli che si intitolano Trame nascoste e qualità nascoste, cioè questo aggettivo nascoste. È un aggettivo su cui vorrei riflettere un attimo, perché a volte siamo troppo distratti da quello che si vede, dal visibile, e non vediamo ciò che è nascosto. Magari noi pensiamo che non esista, solo perché non lo vediamo a una prima occhiata, o perché non lo tocchiamo. Ma non è detto che non c'è, magari c'è, ma noi non lo vediamo perché non stiamo attenti, oppure perché si è nascosto. Quindi anche il nascondersi per, non magari per paura, o magari semplicemente per proteggere, no? Se noi vogliamo proteggere anche i nostri figli, li nascondiamo, no? Durante le guerre, eccetera. Quindi anche questo senso di ciò che è nascosto mi ha colpita molto, perché io non avevo mai riflettuto su questo aggettivo e te lo volevo dire. Adesso non ti interrompo più, vai. Questo, questa considerazione che hai fatto sul nascosto, nascondimento, se ti devo dire la verità mi viene dalla fisica. Vedi? Scusa, quante sono le cose che noi non vediamo e che invece la fisica ci ha dimostrato che esistono? pensa solo le onde elettromagnetiche tanto per dire una cosa che usiamo tutti tanti giorni i cellulari telecomando anche lì se se venisse adesso un uomo del settecento direbbe che siano tutti maghi perché come facciamo accendere una cosa anche con chi parliamo che non si vede nessuno e più si sente la voce noi viviamo in un mondo che diciamo da certi punti di vista può essere considerato magico anche se sembra tecnologico sì è vero che in realtà basta cambiare aggettivo e sono due mondi diversissimi ma parliamo dello stesso mondo è vero dipende sempre dall'osservatore e dal suo punto di vista e questo è tipico poi anche del ragionamento scientifico no l'esperimento anche lì l'osservatore può influenzare l'esperimento e quindi anche noi queste cose le sappiamo e ci influenzano questi pensieri e già decidere se stiamo facendo una cosa tecnologica o magica ci fa scegliere delle strade diverse anche nel nostro diverso modo di approcciarci per esempio anche il fatto di poter utilizzare questo mezzo per fare le interviste anziché vederci dal vivo che è molto più bello perché spero di vederti presto dal vivo a richiacchierare con te però questa cosa ci permette di vederci comunque anche se io vedo te ma tu non sei qui con me più magico di così in effetti ok senza andare al settecento se ci fosse qui mia nonna credo che è morta da tanti anni credo che direbbe ma questa queste magie si farebbe il segno della croce dicendo che è una che è una follia invece il discorso è anche poi metafisico se vogliamo perché se è vero quello per tornare a quello che dicevi prima se è vero che il pensiero può essere qualcosa di più forte del supporto che lo contiene e anche senza supporto cioè anche senza il cervello il pensiero potrebbe continuare a esistere e questo ci dà tutto uno spiraglio di possibilità che possono andare anche nel mondo della pre nascita o nel mondo della post morte noi non possiamo sapere che cosa è del nostro corpo e al nostro pensiero il nostro corpo sì lo vediamo ma il nostro pensiero no il fatto che non lo vediamo che non lo sentiamo più potrebbe non voler dire niente potrebbero esserci altre dimensioni no e il fatto che a pensare queste cose sia una scienziata mi piace moltissimo perché non non perché ci sono delle basi comunque di conoscenza forte sotto il tuo pensiero per tornare al tuo libro scusami hai ancora qualcosa che ti ho interrotto che volevi dirci anche nel libro quando l'ho scritto che come ti ho detto l'ispirazione mi è arrivata così sul momento ho detto ma è un libro di fantasia ho continuato a dirlo per un anno è un libro di fantasia poi l'altro giorno dopo l'incontro con te così ho detto ma aspetta che lo riapro ci riguardo un attimo ho detto ma no ma no ma no ma ho detto delle bugie mi sono sbagliata ho detto una bugia perché in effetti nel primo racconto c'è questa storia del tempo così cangiante che passa da un'epoca all'altra e alle volte sono contemporanee quindi questa l'abilità del tempo non è di certo della fisica classica ok anzi direi che riprende un po' il concetto di indeterminazione di heisenberg in cui ci sono le coppie di grandezze di cui se misuri una non puoi sapere nulla dell'altra e il tempo fa pandan con l'energia per cui se conosci l'energia non sai dire con precisione quando sul tempo e viceversa per cui questo tempo cangiante ci stacco il principio di indeterminazione certo e anche tutte le come dire anche l'effetto del canto d'amore che è il secondo adesso senza parlare della trama mi sono ritrovata a ripensare al potere della musica che sì c'è questo modo anche emotivo un po' magico no di parlare del potere della musica ma nello stesso tempo ci sono degli studi su determinate frequenze che possono influenzare l'animo umano tanto è vero che abbiamo visto nel racconto senza dire cose come c'è questa influenza infatti infatti quindi sì sì sembra tutta una cosa magica ma in realtà potrebbe anche come dire non esserlo così magica e riguardo all'ultimo quello della sibilla anche lì c'è ci sono degli eventi molto particolari eh che anche qui eh insomma sono un po' sui confini della realtà così come viaggia anche poi se andiamo dentro la fisica quantistica le sue implicazioni anche quelle per per noi umanità insomma abituata la fisica classica ci 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 lasciano così su sul confine eh tra la realtà e la magia la fantasia e la stranezza insomma l'insolito ecco ho detto ma guarda te si vede che la mia impostazione per quanto io cerchi insomma qui abbia mi sia buttata più sul lato eh del sentire eh in realtà poi si è comunque ingranata diciamo così con tutto il retro della fisica. Secondo me questa è proprio la ricchezza di questo libro perché non non hai abdicato alle tue conoscenze scientifiche eh sono proprio inglobate dentro al tuo percorso anche se tu non vuoi e e fra l'altro sono ingranate nel modo giusto perché non vi non risultano mai in modo erudito in modo sfacciato in modo che tu voglia farci sapere quanto sei brava quanto hai studiato no uno lo può anche leggere senza conoscere niente della fisica secondo me perché quello che scrivi è assolutamente intuitivo e viene dal tuo profondo dal tuo essere profondo che è fatto anche del tuo studio della fisica ma hai fatto anche di tante altre cose hai fatto di cura di accoglienza di ascolto l'ascolto dell'altro il discorso della Sibilla a me interessa moltissimo perché è un discorso dell'ascolto cioè eh non è soltanto che questa parla eh il fatto è che eh bisogna che va ascoltata e il rapporto con l'altro si misura molto di più sull'ascolto che sulla vista perché io vedo te ci vediamo stiamo zitte qui mezz'ora e basta la cosa finisce lì ma se tu parli o ti ascolto e tutto il discorso cambia entriamo in relazione quindi la Sibilla secondo me è una grandissima figura di donna della del mito e tu poi ne fai una ah ci hai messo la la posso dirlo questo perché la tredicesima Sibilla mi ha fatto impazzire basta questo numero 12 basta questi numeri cioè finalmente un numero primo anche per le Sibille io ho goduto moltissimo di questa cosa e e poi è chiaro che ognuno vede in un libro quello che è pronto a vedere non quello che vuol vedere perché se oggi leggo libri che ho letto quando avevo vent'anni mi fanno tutta un'altra impressione come se vado a visitare una città dopo dieci anni quindi il tuo libro magari letto quest'altro anno mi potrebbe fare un altro effetto però ho letto adesso subito dopo averti conosciuta mentre all'inizio avevo un attimo eh ero convinta che sarebbe stato un libro più scientifico ero pronta a questo dopo la conferenza dico che bello se trovo un libro di Gloria Nobili dove leggo le cose che ci ha detto alla conferenza ecco in questo libro non ho ritrovato le stesse cose però ci sono ci sono sullo sfondo e quindi veramente è un libro che consiglio è una bella lettura estiva eh lo faccio vedere si trova in internet su amazon è facilissimo da da comprare da trovare da regalare adesso ti saluto perché il tempo sta per scadere eh dandoti appuntamento quando vuoi sia su questo canale marziano sia anche dal vivo restiamo in contatto e grazie davvero tanto per queste tue parole di grande di grande cultura e anche di condivisione emotiva che è una cosa molto importante grazie a te per questa occasione grazie caro 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 grazie caro